e adesso ci dedichiamo alla nostra pagina del teatro con appuntamento a Londra di Mario Vargas Liosa in scena da venerdì 8 a domenica 10 novembre presso il teatro San Nazaro di Napoli per la regia di Carlo Sciacaluga. Ne parliamo questa mattina con uno dei protagonisti in scena e quindi do il buongiorno a Luigi Tabita, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco Luigi si tratta di una rappresentazione questa che porta effettivamente il pubblico nella capitale britannica con una storia veramente avvincente per una produzione poi del teatro stabile di Catania che conquista tutti spettatori e critica. Qual è il focus di appuntamento a Londra? Il tema è un tema tanto amato dall'autore che è la creazione della verità. La verità non è, dice l'autore, si crea tra più persone. I due protagonisti che sono Luca che è interpretato da me e Maddalena interpretata da una meravigliosa Lucia e Lavia si incontrano e si scontrano in questa suite di un albergo a Londra con un dialogo molto forte, a volte anche violento, per giungere ad una verità. Che poi in realtà, come dicevo prima, e questo è un po' molto pirandelliano, l'autore lascia aperta la prospettiva. La verità è quella che ognuno di noi crede, come fa dire Pirandello all'ultimo personaggio nel Così e se vi pare. E questo sicuramente Vargasiosa ha questa caratteristica che è un po' pirandelliana e da siciliano lo sento molto. E poi affrontano vari temi, il tema anche dell'identità di genere, della transessualità, dell'omofobia interiorizzata. Ci sono tanti temi che ruotano attorno a quello principale che è la verità. È un testo molto avvincente che tiene inchiudato il pubblico alla poltrona. Ma com'è mettere in scena un premio Nobel? È una grande responsabilità sicuramente. E devo dire è anche molto affascinante perché noi l'abbiamo conosciuto ovviamente Mario Vargasiosa e quindi poter anche fare delle domande rispetto al testo. Cioè avere un autore vivente è sempre molto affascinante e poi un autore di questa caratura. Quindi per noi è un grande onore poterlo rappresentare. Raccontiamo anche un po' la storia perché il tutto si sviluppa in una camera di albergo. Un uomo, quindi un uomo d'affari, riceve la visita inaspettata di una donna che dice di essere la sorella di un suo vecchio amico. E poi quindi dall'oscurità di questo passato iniziano a riemergere effettivamente delle storie, delle pulsioni, anche represse, dei sentimenti che erano stati sepolti. Come ti sei preparato effettivamente a questa avventura? Eh guarda io il personaggio che interpreto è un personaggio devo dire molto lontano da me. perché Luca, lo vedrete, appunto all'inizio è proprio un personaggio molto tronfio, è molto, è omofobo, è un leone, è un... e poi man mano che la PS va avanti vengono fuori le sue fragilità perché è un uomo molto fragile, è un uomo irrisolto da tanti punti di vista. E mi sono preparato come faccio sempre, questa volta devo dire andando a scavare ancora di più nella mia nella mia vita, perché è un personaggio come vi dicevo molto lontano da me, ma sono un personaggio che io conosciuto, io sono omosessuale dichiarato da sempre, battaglio in prima fila e quindi poter rappresentare un omofobo per me è stato interessante da un lato, ma dall'altro capite bene andare a ricercare quelle ferite, perché lui è molto violento, parla, utilizza parole come finocchio, è molto sprezzante con me e sono persone che io ho incontrato, quindi sono andato un po' a ricercare nelle mie ferite quegli sguardi, quella postura, quella voce restituendola al personaggio, ma è un po' quello che ho scelto di fare, io faccio questo lavoro per poter vivere altre vite, quindi sono molto contento anche di affrontare un personaggio del genere. Quindi i due protagonisti che sono poi interpretati da te e da Lucia, Lavia, sono effettivamente un po' contorti, perché si determinano a vicenda, si scoprono a vicenda, un tema che nonostante tutto resta sicuramente molto attuale. Assolutamente, come vi dicevo, si può dire, devo dire, sono molto limitato, perché siccome è veramente un noir, non posso spoilerare troppe cose, perché man mano si scoprirà chi è realmente questa donna che è venuta a trovarlo. Sì, c'è questo gioco dell'identità, come vi dicevo, e loro giocano a questa cosa dell'identità, si determinano, si autodeterminano, si danno identità diverse, è un gioco anche molto perverso. All'inizio può sembrare quasi un film di Almodovar, devo dirvi, cioè con queste apparizioni del passato e con queste identità che hanno i contorni così sfumati. Il gioco che fa l'autore, che è straordinario anche nei suoi romanzi, è quello di contrapporre vari piani, il piano della realtà, della finzione, della rappresentazione. E per tutta l'ora e trenta, quanto dura la PS, si intrecciano continuamente. Quindi lo spettatore viene all'inizio a difficoltà a capire che cosa sta accadendo, poi invece entra dentro questo tunnel e vuole scoprire qual è la vera, se c'è qual è la rappresentazione, qual è la realtà. Per questo è veramente molto interessante, è avvincente come dicevo. Anche ragazzi, noi abbiamo fatto anche per le scuole, i ragazzi sono molto contenti. Ecco, è fruibile anche per le scuole. Da attore abbiamo capito cosa è stato per te complesso rappresentare, invece che cosa ti gratifica di quest'opera? Mi gratifica appunto quello che dicevo, che i ragazzi apprezzano e quindi noi parliamo in qualche modo anche di un tema come l'omofobia. Viene trattata non in maniera banale e si comprende come i bulli, gli omofobi, in realtà sono delle persone fragili e quindi non bisogna avere paura perché anche loro nascondono delle fragilità e questo è bello perché arriva il messaggio ai ragazzi principalmente e anche ai grandi ovviamente perché tutti noi purtroppo abbiamo un'omofobia interiorizzata che è dettata dalla nostra cultura che è macista, patriarcale, come sappiamo che nella costruzione proprio del cittadino noi l'abbiamo sotto pelle, ma anche io che sono omosessuale, per toglierla ci vuole del tempo, perché nelle abitudini, negli atteggiamenti, la scelta, anche le cose stupide, la scelta dei colori, che l'azzurro è per i maschietti, il rosa è per la femminile, cioè veniamo noi indottrinati sin dalla nascita e quindi per noi molte cose che sembrano normali sono un po' difficili da scardinare e quindi sono molto contento del messaggio che arriva alle persone sino a ieri in camerino, ora noi siamo a Roma in scena e arriviamo subito dopo a Napoli, siamo felicissimi perché è una città che amo moltissimo, Napoli. Ma se dovessi scegliere tre aggettivi per definire questa pièce? È complicato perché devo beccare quelli precisi. cattiva, mi piaceva perché ha questo mordente molto forte, inaspettata e sicuramente feroce. Ebbene allora Luigi, in conclusione della nostra chiacchierata insieme, qual è il messaggio che vuoi inviare ai nostri telespettatori? Perché non perdere appuntamento a Londra? Allora a me piacerebbe, dico questa cosa qua, che la gente dopo aver visto appuntamento a Londra, nonostante tutto quello che ci siamo detti che affronta questi temi, tornasse a casa e prendesse una scelta. Perché il problema di Luca, il mio personaggio, è che non ha mai preso le scelte che vuole fare quello che voleva fare, non l'ha mai fatto, da tutti i punti di vista, nella vita sentimentale, nel lavoro. Quindi io, e questa cosa lo rende infelice, questo è il poem, si vede alla fine. Quindi mi piacerebbe che questa cosa desse una spinta al trovare il coraggio, che tornando a casa prendono quella indecisione che è messa sul pomodino lì, che sta aspettando e dicono ok, vado. Riprendere una scelta definitiva, questo è molto bello e molto significativo. Una scelta definitiva per essere felici, perché la vita è una sola e va vissuta, sembra una cosa banale, ma è così. No, 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 è ragione, è ragione, perfettamente ragione. Allora, io voglio ricordare insieme a te l'appuntamento da venerdì 8 a domenica 10 novembre presso il Teatro San Nazaro di Napoli con appuntamento a Londra. Grazie di essere stato in nostra compagnia Luigi Tabita. Grazie a tutti e a tutti vi aspetto. Ciao, pubblicità.